Buongiorno Manfred Manera, sono giornalista che segue la causa tibetana da vent'anni. Penso che sia in un momento importante ora di coinvolgere il più possibile l'opinione pubblica italiana perché il problema tibetano ha un denominatore comune, la potenza sempre più opprimente di questa nuova Cina guidata da Xi Jinping che potrebbe veramente non solo costituire una minaccia anche per le libertà di noi italiani, di tutta l'Europa. Se pensiamo soltanto a quello che è successo con la gestione del virus che ha origine in Cina e che ha portato a una limitazione enorme delle libertà anche in Europa. Per cui voglio dire che non vorrei che quanto hanno patito i tibetani potesse essere poi esportato anche da noi in Italia. Quindi è necessario che si allarghi il più possibile la coscienza di questo pericolo in Italia. pericolo a cura di Hellgrassi Grazie a tutti.